Il mio messaggio, se avessi nessun messaggio, è che non si accusi, non si gossi, non si punti il finger. Siamo insieme per lavorare su una soluzione, perché questo può solo essere solito come comunità, mi sento. Quindi la vedremo sempre di più a Salento. Quindi vedrai più e più qui in Salento. Sì, spero, io devo lavorare, e come tutti gli altri, devo lavorare e ottenere il mio lavoro, ma quando ho ottenuto il mio lavoro, mi piace venire qui e essere parte della comunità. Grazie, grazie mille. Grazie.